apriamo le scatoline questo è tono all'olio d'oliva l'antiaderente bella grande versiamo all'interno tutto l'olio sale un po di pepe un pochino di prezzemolo busta del pane formine per biscotti quelle che avete in casa io uso questi a fiorellino fiorellini pronti adesso non dobbiamo fare altro che cuocerli distribuiamo bene l'olio su tutta la padella potete cuocerli anche al forno un po d'olio anche sopra 10 minuti a 200 gradi più o meno pomodorini tagliamoli semplicemente a metà così appoggiamo il centro se volete anche un po di balsamico ed ecco che è pronto una ricettina semplice ma davvero buonissima se vi è piaciuto il video lasciate tanti mi piace condividetelo buonissima 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 buonissima